L'Airman di Pescara nella sua terza edizione sta diventando una delle gare più importanti d'Europa e si vede anche nella gente, il pubblico, i pescaressi che tornano sempre di più e più calorosamente. Sono convinto che il movimento del triathlon anche grazie all'arrivo di Ironman in Italia e adesso da quest'anno anche di altri circuiti stia effettivamente crescendo, si vede l'interesse sia degli atleti, sia dei media, sia degli sponsor e diciamo che è bello vedere un po' di passione intorno a questo sport. Grazie a tutti. 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 3, 2, 1, piega! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti